Sono durate una settimana e si sono concluse con un sequestro le indagini della Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito della contraffazione. 42.000 articoli presenti in un deposito per la vendita all'ingrosso sono stati tolti dal mercato. Nel locale di stoccaggio riminese ne erano presenti 47.000. Si tratta principalmente di capi di abbigliamento sportivo e gadget vari che riproducevano il logo di note squadre calcistiche e brand di alta moda. Nello stesso punto vendita sono stati sequestrati altri 5.000 articoli perché sarebbero stati sprovvisti della corretta etichettatura. Tra questi vi sono 103 pistole a gas prive dei segni identificativi e del numero della verifica di conformità. Pistole precisano le forze dell'ordine che possono risultare pericolose. I responsabili del deposito sono stati deferiti per le ipotesi di reato di ricettazione e contraffazione e segnalati alla Camera di Commercio per violazione alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti e del codice del consumo che prevede delle sanzioni fino a 25.000 euro.